buongiorno allora salve a tutti è una comunicazione importante quella che devo agli iscritti del mio canale insomma perlomeno a quelli che mi seguono e che nutrono una certa fiducia anche nelle proposte nella continuità in quello che trovano in questo spazio potrete constatare insomma da stamattina perché il lavoro poi l'ho fatto l'ho fatto ieri che sono diminuite di parecchio le proposte i video presenti nel canale molti sono stati tagliati ed eliminati soprattutto i video diciamo forse più visti quindi quelli che facevano più visualizzazioni quelli che avevano più interesse ovviamente questa volta mentre l'altra volta in cui avevo fatto un taglio di credo 1500 1700 video era stato perché volevo togliere tutte le robe antiche che non mi piacevano più insomma che che non avevano più motivo di essere anche perché veramente troppa roba questa volta la volontà non è stata mia cioè non dipende da me forse l'unica cosa possibile da fare in questa situazione quindi accettatela è così cosa è successo youtube questa volta non c'entra non ho avuto nessun avvertimento nessuna segnalazione da youtube quindi tutto è ok per quello che riguarda youtube il canale ha il massimo di referenze insomma cioè il canale non ha avuto nessuna segnalazione di youtube e niente neanche per quello che riguarda le segnalazioni sul copyright da parte di youtube quelle per cui voi sapete nel momento in cui youtube ti segnala una violazione del copyright mettiamo in una canzonetta oppure in dieci secondi di un brano musicale che tu adoperi come sottofondo sotteggia che youtube ti mette il banner pubblicitario e si tiene proventi di quella pubblicità in cui c'è la canzonetta insomma nonostante che tu hai fatto il lavoro insomma nel momento in cui magari trova tre secondi della tua di una musica che non che non ti appartiene che non hai scritto tu automaticamente viene innescato un meccanismo per cui si inserisce un banner si inserisce un banner pubblicitario e i proventi di quel video quando ci sono vanno all'autore di quella musica niente di tutto questo è successo che ho ricevuto una lettera raccomandata da un avvocato ma questo lo devo dire tra l'altro una lettera in cui si usano dei toni molto molto buoni molto tranquilli molto comprensivi e di questo io ringrazio l'avvocato della scritta è un avvocato di milano di cui non faccio il nome ma in realtà insomma è successo questo l'avvocato ovviamente non non agisce per conto suo cioè non ha preso lui l'iniziativa di fare questa cosa qua niente gli può interessare all'avvocato no ma mi scrive a nome per interessamento che ha avuto insomma per incarico che l'ho avuto dalla da quella che è l'associazione italiana editori che ha una sigla aie il nome appunto e per conto della quale mi invia la presente quella che adesso vi leggo aie che è venuta recentemente a conoscenza che mediante i canali di youtube audiolibri valter zanardi audiolibri leggo per voi di valter zanardi lei cioè io comunica al pubblico un numero elevatissimo di registrazioni audio letture di opere letterarie edite dagli associati aie questa cosa la leggo pubblicamente anche nella consapevolezza che questo video verrà visto anche da chi mi ha mandato questa lettera e quindi la comunicazione che faccio con voi anche quella che vorrei instaurare con 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 gli editori insomma nel senso con questa associazione degli editori che mi diffida in qualche modo a a proseguire in questa attività in modo da trovare un possibile compromesso insomma una via che gli faccia meno danno possibile a chi segue questo canale insomma chi ne trae dei vantaggi penso anche agli povedenti penso ai dislessici sono anche ogni tanto mi scrivono ringraziando mi penso anche a tutti gli altri che magari non non leggerebbero se non trovassero determinati video o determinati storie in questo canale insomma e che magari non avrebbero mai conosciuto quei libri che sono stati proposti allora andiamo avanti le case editrici dei libri da lei così utilizzate riferiscono di non averle fornito alcuna autorizzazione alla registrazione audio e diffusione online del testo questo è vero anche perché sarebbe veramente difficile per me che che lavoro da solo poter chiedere ogni volta una un'autorizzazione a chissà chi francamente non conosco le le modalità di di chiedere un'autorizzazione ogni volta per ogni cosa possibile su 6 mila video che c'erano in questo canale pensare a 6 mila autorizzazioni ai tempi di 6 mila autorizzazioni queste cose qua francamente una cosa per me impensabile smetto subito cioè non non ha possibilità insomma di essere solo da solo anche semplicemente i costi di tempo e i costi non saprei farlo cioè non potrei farlo francamente pensavo che non ci venga nessun utile da questa cosa qua e facendo un'opera di servizio tra l'altro con la consapevolezza che che a volte la conoscenza di un'opera letta o dell'esistenza di quell'opera a volte magari ti porta ad acquistare il libro pensavo indirettamente di fare anche un servizio all'aie nel senso che c'era stata anche un articolo qualcosa che ho letto da qualche parte in cui risultava che le letture che fanno a ad alta voce poi sono letture molto più di qualità insomma delle mie ad altre volte per radio rai tre non solo hanno diminuito l'acquisto ma hanno aumentato l'acquisto delle opere che vengono lette perché chi ascolta poi magari a volte non riesce ad ascoltare completamente certo poi a piacere di averlo in cartazio quel libro quindi indirettamente pensavo di fare anche una certa opera di promozione per quello che riguarda nella mia enorme ingenuità di fare anche un'opera di promozione quindi qualcosa che andasse poi a beneficio degli editori del cartazio magari che vedevano anche rinascere o riemergere opere che magari dal quello che è gli anni non si trovano più neanche in biblioteca vengono messi nel dimenticatoio e pensavo che magari questa cosa potesse far rivivere anche dei libri messi nel dimenticatoio e quindi potesse incentivare anche la vendita di quei libri nella mia grande ingenuità e invece no e invece allora mi si scrive in merito all'operazione da lei compiuta che evidentemente è stata una grossa operazione perché andata questo piccolo moscerino è andato a toccare un grande interesse insomma qualcosa di cui una cosa grossa e si accorta insomma no e ritiene di intervenire anche per via diciamo legali anche se solo come un avvertimento allora corre l'obbligo di evidenziare che la normativa di legge del 22 aprile 1941 numero 633 e successive integrazioni certo credo soprattutto per le successive integrazioni perché nel 1941 e audiolibri non esistevano insomma quindi questo via questa modalità di comunicazione non poteva neanche essere immaginata e pensata esisteva forse la radio ma difficilmente si poteva leggere un libro in radio a quei tempi forse da noi ma non lo so sancisce che per l'adattamento dell'opera letteraria in audiolibro e la sua comunicazione al pubblico è necessario il preventivo consenso del titolare dei diritti e in specie del suo editore ecco cose che francamente io non ho fatto cioè non ho e qua devo ammettere la mia colpa come penso sia un limite della gran parte di quelli che pubblicano delle letture in internet se questa è la mia colpa sfido gli altri che fanno quello che adesso faccio anch'io insomma fanno dopo di me quello che ho fatto anch'io magari lo facevano prima che leggono audiolibri e li postano su youtube e magari li postano gratuitamente volevano vorrei sapere se anche loro hanno un consenso preventivo insomma oppure come come si regolano perché effettivamente il mondo il mondo è complesso no allora ci sono due leggi fondamentali da quel che so io noi 70 anni dalla morte non da quando è scritta l'opera dalla morte dell'autore e 70 anni e qua non lo so e poi sono dei diritti del traduttore e non so se hanno la stessa e lo stesso tempo la stessa scadenza sui 70 anni dalla morte del traduttore no voi capite che per quello che riguarda un'opera straniera 70 anni dalla morte del traduttore è un limite quasi invalicabile insomma no anche perché penso solo anche a dostoyevski insomma 70 anni della morte del traduttore vuol dire che il traduttore deve averlo tradotto entro i primi degli anni 40 e a quel tempo la probabilmente si traduce cioè deve essere morto entro i primi degli anni 40 e quindi dovrebbe averlo tradotto negli anni venti negli anni dieci negli anni trenta in italia forse si traduceva poco a quell'epoca la allora vuol dire limitare un po tutto no la letteratura americana qualsiasi cosa vuol dire non poterla leggere non poterla e poi non è chiaro quanto si può leggere non si possa leggere un libro intero ma quanto si può leggere di un brano di un libro di un autore anche morto più di 70 anni fa quanto di questo autore può essere porto offerto anche come campione di quell'opera al pubblico non lo so ma anche quelli che pubblicano soltanto gli incipiti letterali gli incipiti possono essere proposti o no è un territorio per me molto molto sfumato io credo che molti fanno e poi vedono se questa cosa funziona o no se questa cosa viene contestata o no come ho fatto anch'io adesso però nel mio caso e credo legato poi al alla mole di lavori che ho prodotto spero anche con una valutazione di qualità perché se effettivamente questa roba fosse della roba inascoltabile non l'ascoltasse nessuno nessuno siamo fisti nessuno si fosse iscritto al mio canale sarebbe sarebbe stata una cosa trascurata insomma quanti non provano a fare degli audiolibri così no magari leggono anche cose protette anche loro da copyright però insomma non vengono notati hanno 50 iscritti non si capisce quello che dicono e quindi e quindi niente si lascia correre il fatto che si sia puntata l'attenzione su questo canale vuol dire che insomma è anche per me un attestato di qualità bene o male come è un attestato di qualità anche il fatto che rai 3 almeno in due o tre casi ha preso dei brani del mio canale per trasmetterli insomma anche qui ha pescato anche lui anche rai 3 anche sull'ata radio 3 ha pescato da qui per trovare alcune cose uno di questi è un quartetto di hilliot un altro non mi ricordo e poi è stato trasmesso un racconto di buganza sempre sul cantiere di rai 3 quindi insomma si è pescato da qui anche in rai 3 che comunque fa piacere no è comunque un attestato bene o male di una certa qualità e quindi voglio dire qui sono finiti anche gli autori ed editori cosa cosa mi dicono alla fine gentilmente da questo punto di vista l'avvocato che ho sentito anche al telefono sono estremamente gentile e disponibile a un dialogo che cerchiamo di instaurare e quindi mi dice posso personalmente immaginare che lei abbia abbia proceduto alla realizzazione delle registrazioni alla loro comunicazione al pubblico unicamente per una sua non sufficiente valutazione del quadro della regolamentazione vigente e quindi sono certa che vorrà procedere nel minor tempo possibile a rimuovere le registrazioni audio delle opere letterarie edite dalle società editrici aie già presenti nei suddetti canali della piattaforma youtube così come a non effettuarne di ulteriori questa grosso modo è la lettera che io ho ricevuto quindi nessuna diffida nessuna minazza neanche di procedura ma insomma un invito e da questo punto di vista io non posso non accogliere questo invito perché in realtà come mi chiedete se io ho adempiuto a queste formali procedure legali non lo so insomma di chiedere l'autorizzazione per ogni cosa che ho letto o per ogni cinque minuti di un brano letterario che ho letto no sinceramente posso dirvi che da questo punto di vista non sono non sono in regola quindi insomma mi sembra che la cosa più giusta che sia possibile fare per quello che mi riguarda ma per quello che mi riguarda come dire io non ne guadagno niente potrei benissimo vogliere tutto chiudere tutto da questo punto in avanti o chiudere il canale fregarmi non fare più niente perché insomma il materiale da cui si può raccogliere per continuare a fare quello che voglio fare io diventa esiguo e ricominciare con quel materiale che che potrebbe essere disponibile insomma no andare magari a pescare nella nella libreria di liber liber di libri che non interessano più a nessuno insomma no e proporre quelli allora credo che sia conveniente accettare un dialogo e la prima cosa che ho pensato utile di fare nel proposito di questo dialogo è quello di eliminare tutto quello che ho scritto almeno da autori che sono morti meno di 70 anni fa e quindi ho cercato di fare questa pulizia ma su 6.000 video presenti è stata è laborioso fare questa pulizia è un lavoro che richiede ore 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 allora ieri ho fatto questa pulizia e ho eliminato almeno 1700 video per cui adesso riesco anche a leggere il numero di video presenti nel canale prima non riuscivo a fare attualmente sono 3025 quindi io l'ho fatto questa pulizia e quindi voi troverete molti video di meno soprattutto i video che erano i più gettonati insomma non ritroverete più 1984 non dovete più fare night 451 non ritroverete più le fattorie degli anni animali non ritroverete più l'amico ritrovato di woman non ritroverete più l'amante non ritroverete più tanti video che insomma avevano ricevuto molte visualizzazioni e quindi avevano ricevuto anche molti commenti insomma apprezzamenti quindi il primo lavoro che fate questo lo dico anche a rappresentante insomma dell'ai e della società dell'associazione italiana editori che si è rivolta all'avvocato insomma io ho già proceduto ricevuta la lettera ieri insomma ho proceduto a fare da questa revisione ho tolto ieri altri 1700 video da questo canale soprattutto quelli che ritenevo incriminati è possibile che me ne sia sfuggito qualcuno perché ripeto qualcosa sfugge probabilmente e cercherò nei prossimi giorni di come dire di rivedere questa cosa ancora alla ricerca di eventuali video da togliere che mi siano sfuggiti quindi da parte mia c'è tutta la buona volontà perché non posso fare altro obiettivamente insomma se si ragiona con calma senza come dire senza fare proteste che poi non servono non posso che adeguarmi a questa cosa ho tolto tutti i video di cui so che l'autore del brano è morto meno di 70 anni fa e non sono però e non riesco francamente a decidere e non riesco però francamente a decidere quella che è l'età di morte del traduttore insomma su questo non lo so quindi pensiamo che la prima fase la prima cosa che ho compiuto è quella di togliere tutti gli autori diciamo morti recentemente morti meno di 70 anni fa quindi di fare di applicare il criterio rigidamente per autore a volte come dire se ho lasciato qualcosa di questi autori ho lasciato dei brani piccolissimi cioè quelle che sono state le cose che facevo soprattutto all'inizio di leggere tre minuti di quell'autore insomma che potrebbe essere un assaggio insomma ecco questo credo che non dovrebbe essere contestato nel caso voglio dire nel caso possa succedere così oppure contestata una poesia di montale allora bisognerebbe smontare tutti tutti gli altri canali di youtube in cui si legge una poesia di montale insomma mi pare mi pare improbabile anche per una questione di buon senso insomma no cioè non minazza nessun interesse che si legga una poesia di montale anzi far conoscere montale qui vuol dire incentivare semmai la vendita dei suoi libri di poesia insomma il buon senso porta a questo poi ci sono casi estremi no sto pensando a mobidic che ho letto integralmente nella traduzione di pavese la traduzione è stata fatta mi pare negli anni 30 forse 38 non ricordo bene ma insomma giù di lì tra il 30 e 40 quindi la traduzione ha ovviamente ovviamente melville morto no più di 70 anni fa pavese però è morto nel 50 quindi 68 anni fa allora lì ci sarà da cavillare sull'anno in più o in meno che è morto della morte di pavese cioè vuol dire rimandare di un anno la pubblicazione su youtube fatta secondo tutte le lezzi insomma oppure si può lasciare mobidic che è stato scritto ovviamente più di cento anni fa e il cui traduttore è morto 69 anni fa domanda insomma cioè qui poi si porrà anche la questione di buon senso di cavillo no come interpretare le regole le leggi e comunque staremo a vedere mi si dirà di togliere anche mobidic io toglierò anche mobidic allora lo dico al rappresentante degli autori editori insomma che tutto quello che da adesso in poi dopo che ho fatto questa operazione di togliere tutti gli autori libri completi insomma di tutti gli autori morti meno di 70 anni fa lascio il resto e mi aspetto che mi si dica cos'altro non va quando mi verrà comunicato che questa che questo video trasgredisce le norme così io sono pronto a toglierlo lo dico qua e lo toglierò senza nessuna immediatamente senza nessuna se o ma lo toglierò comunque penso che sia che questa cosa poi sarà a scapito di qualcuno di voi insomma però è purtroppo insomma le cose vanno così e quindi io toglierò tutto quello che mi si dirà però mi si dovrà dire ecco forse questo è un modo di comunicazione almeno perché mi è stato anche prospettato insomma di tenere un collegamento tramite email insomma no quindi che io preferisco a quello che sia con youtube perché youtube quando c'è qualcosa che non va ti chiude il canale basta no ecco qui invece parlando con l'avvocato si è prospettata questa questa eventualità insomma questa possibilità di dialogo io faccio una prima cernita che ho tirato via come ho già fatto lo dico apertamente l'ho già fatto in tutti e due i canali le cose che a mia conoscenza sono state scritte da autori morti prima di 70 anni fa tranne brani piccolissimi insomma di qualche minuto qualcosa può essermi sfuggita e su questo qualcosa se mi è sfuggito qualcosa pronto immediatamente a rimediare adesso a questo punto aspetto che gli autori rivedano il mio canale e mi segnalino le altre cose che secondo loro non ho il diritto di postare a questo punto io toglierò anche quelle spero però che questo lavoro per non essere solo a rimetterci riguardi anche tutti gli altri perché ormai non sono più solo io a fare queste cose per voi no siamo in tanti ho visto che insomma la cosa è stata presa anche da molti altri perché si pensa che sia una cosa anche utile insomma no e quindi insomma non mi pare giusto che un solo canale paghi per tutti se questa cosa gli autori hanno puntato a fare sono messi in allarme nei confronti del mio canale è giusto che guardino tutto quello che viene fatto su youtube e che si comportino come si sono comportati con me possibilmente e ripeto non si sono comportati male con me mi hanno fatto presente una cosa non mi hanno punito tra virgolette per quello che è stato fatto e mi invitano da adesso in poi a comportarmi in un certo modo e io in questo modo intendo comportarmi allora un punto è il passato di togliere tutto quello che può essere giudicato non secondo i regolamenti ok le altre cose in questo modo è il futuro no cosa fare adesso dove andare a trovare letture che non siano sottoposte a copyright io pensavo insomma intanto al mondo italiano insomma no come può essere pirandello come può essere verga e poi vedrò insomma anche tra tanti scrittori di racconti italiani che magari sono morti più di 70 anni fa insomma di andare a recuperare materiale che forse può essere interessante può essere anche di di ricerca tra tra questi autori più o meno conosciuti e poi di andare al mondo classico insomma di andare al mondo anche del come dire della filosofia della scienza sto pensando anche a darvi insomma a testi che si trovino per esempio in internet pensando che se hanno accettato se non sono intervenuti su quei testi che sono stati pubblicati in internet vuol dire che li hanno accettati come come buoni insomma no e quindi a traduzioni in questo caso insomma no pensiamo ai classici pensiamo a Platone insomma no i dialoghi di Platone quelli che trovo in internet io sono tenuto a ritenerli buoni insomma usabili per farne anche una lettura ad alta voce il futuro si presenta con caratteristiche tali per cui non sarà più possibile leggere brani di lettura tura contemporanea cercherò di vedere per quello che riguarda la fantascienza che mi pare sia un territorio che interessa insomma no che incuriosisce se ci sono autori che sono stati tradotti prima del 48 da traduttori morti prima del 48 ovviamente se voi conoscete dei brani che vi interessano di questo tipo magari segnalatemi quindi insomma per quello che riguarda il futuro però è mia intenzione adeguarmi a questa normativa visto che esiste perché non voglio essere attaccato cioè non vorrei di punto in bianco dovermi trovare una citazione in tribunale per una cosa che faccio gratuitamente dedicando la gran parte del mio tempo questo è evidente ma penso che insomma non potete non condividere questa posizione insomma non so chi di voi per fare una cosa gratuita che lo impegna sia disponibile a rendersi imputabile no a sostenere un processo insomma no non non mi pare visto il rapporto che che ho con la legge la considerazione che ho non tanto con la legge in se stessa insomma ma con la legge dei tribunali insomma con la burocrazia della legge non vorrei ecco allora la mia massima disponibilità da tenermi alle regole ieri sono stati eliminati da questo canale qualcosa come 1600 1700 video adesso non mi ricordo ma il numero è di quest'ordine per cui forse ve ne accorgerete ve ne accorgerete quando andrete a cercare soprattutto quei video che erano più gettonati insomma quei romanzi che erano più e più gettonati un'ultima considerazione poi magari lascerò i vostri commenti la cosa l'altra l'ultima considerazione è questa adesso ho tanto materiale io lo conservo il materiale ma magari poi il materiale che adoperi per fare un video poi lo conservi in frammenti insomma è più difficile man mano che ho tolto questi video ho cercato anche di scaricarmeli no quindi adesso ce li ho in un hard disk è il materiale che lì prima era usato c'era a vostra disposizione adesso non lo è più ci sono tanti tanti insomma abbastanza gli autori dicevano un numero elevatissimo di registrazioni e quindi sono queste registrazioni ci sono non sono ancora non sono presenti al pubblico sono in un hard disk che tengo a mia disposizione dato che sono cose che ho fatto io dai libri che ho comprato insomma su questo mi sento di non violare nessuna regola allora mi piacerebbe che in futuro questo materiale possa essere in qualche modo usato usato in maniera legale regolare quindi per essere regolare deve essere autorizzato da questa società io francamente non so formalmente come avvengono le procedure come si può fare se qualcuno ha delle idee da questo punto di vista vorrei chiedere il vostro contributo ad idee no c'è un materiale che è notevole insomma bene o male potrebbe essere utile si cerca si cercano lettori per i cechi si cercano insomma c'è un materiale che esiste che è qua se qualcuno ha l'idea di come potrebbe essere usato legalmente quindi di come questo materiale possa venire autorizzato per essere di nuovo pubblicato in rete ovviamente se questa autorizzazione ha un costo questo corso dovrà essere riversato su chi lo utilizza su questo non c'è dubbio insomma no quindi bisognerà fare in modo di trovare una cosa ma se qualcuno ha delle idee visto che c'è presente un materiale di come si possa utilizzare ancora con la rete saltando youtube ma con tutte le autorizzazioni quindi nel modo più legale come lo fanno come lo fanno poi le grandi le grandi major cosa come come si chiamano no ormai audible story per no i quali cosa hanno fatto probabilmente hanno acquistato penso io è probabilmente hanno acquistato i diritti no in massa già non probabilmente avevano pagato uno stock per questi diritti no hanno preso quello che c'era di audiolibri in commercio e li hanno messi nel loro catalogo insomma no alcuni ne fanno fare di nuovi ma non tanti per il costo per fare un audiolibro poi le offrono a con un abbonamento a un tanto al mese tra parentesi io sono convinto che questa cosa che è successa adesso è successa perché probabilmente una cosa come quella che stavo facendo io e che fanno alcuni altri evidentemente magari una volta che va anche nelle applicazioni del cellulare che so io insomma no è un qualcosa cioè di fornire delle letture integrali gratuitamente è una cosa che è andata a disturbare non tanto gli editori cartacei ma è andata a disturbare questi gruppi che chiedono 10 euro al mese no per ascoltare l'audiolibro che vuoi che poi non rimane tuo insomma da quel che ho capito tu hai questa questo come dire questo scaffale potenziale del quale puoi attingere ma poi devi lasciarlo nello scaffale non te lo poi non diventa tuo insomma l'oggetto libro audiolibro che 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 compri perché non compri quell'audiolibro compri la possibilità di accedere a quello scaffale sono convinto che canali come questo sono sono andati a disturbare il business che molto più recentemente di quando ho cominciato io a fare questa cosa si sono messi nel mercato e vogliono stanno facendo anche una grande pubblicità evidentemente no ci hanno visto il business se ci pensate bene sono 120 euro all'anno e moltiplicate lì per sono soldi e quindi questo soprattutto cioè io sono convinto che se non fossero intervenuti questi colossi diciamo così no due mi vengono in mente soprattutto probabilmente gli autori di libri editoria cartacea non sarebbe intervenuta non sarebbe intervenuta insomma prima che che nascessero questi diciamo nessuno si era preoccupato di questo perché in realtà l'editoria cartacea può averne un beneficio ovviamente questi no cioè se possono come dire se ti propongono un libro e poi tu lo leggi gratuitamente magari in maniera quasi confrontabile con con il lettore che hanno scelto loro perché ce ne sono di buoni ma ce ne sono anche di meno buoni insomma no di tutto tanto è quello che dicono ascoltare è lì che magari tu fai la concorrenza no tu che potresti fare un abbonamento a storita lo ad audible tu hai la possibilità di trovare invece di ascoltarti gratuitamente un canale come quello di walter zanardi e trovi materiale per riempire le tue serate o i tuoi viaggi sono 120 euro all'anno persi moltiplichiamoli per il numero di persone adesso sono 20 mila gli iscritti al canale mettiamo che 10 mila un piccolo calcolo 10 mila avrebbero potuto invece che ascoltare questo canale iscriversi o fare un abbonamento quant'è 120 mila per 10 mila insomma qui interviene il business ecco io mi limito a questo insomma concludendo questa è la spiegazione spero che sia chiara del perché molte cose sono state eliminate purtroppo ma è così questo è il tipo di programma quindi rimanere nelle regole quindi di prendere soltanto brani d'ora in poi insomma che non siano coperti da diritti d'autore questa è la spiegazione che mi do insomma di quanto di quanto è successo nessun problema con con youtube e quindi canale rimane e vi invito comunque ad iscrivervi nonostante tutto ad avere fiducia che le proposte che farò siano ugualmente interessanti e spero che il nostro rapporto rimanga rimanga come è stato fino adesso insomma no rapporto anche il più possibile ricco dal punto di vista interpersonale poi ci possono essere anche tante iniziative che si potrebbero fare insomma che potrebbe essere interessante organizzare con voi un corso di lettura espressiva nei prossimi mesi adesso andando verso l'estate una cosa interessante pensavo potrebbe essere fare tipo 4 5 giorni intensivi qui ad abano per chi magari interessato non è tanto lontano in un albergo termale quello ognuno sceglie l'albergo termale si trova una sede e quindi potrebbe fare coincidere tipo una settimana con piscina e con cose e fare un e nel frattempo potremmo fare un po un laboratorio insomma di lettura in cui vedere anche gli strumenti insomma come come fare a a leggere ad alta voce poi a postare a postare su youtube sempre testi autorizzati ovviamente questa potrebbe essere un'iniziativa che mi piacerebbe che mi piacerebbe fare poi ripeto se qualcuno ha questa idea su come utilizzare questo materiale che adesso c'è ed è a disposizione in maniera sempre legale e secondo tutte le regole io sono aperto a suggerimenti poi l'altra cosa e ancora adesso il senso di questi due canali lo lo vedrò quest'ottica mi veniva in mente per esempio vedete che è sempre infieri la cosa non è mai definita secondo di come intervengono poi i fatti ma mi piacerebbe eventualmente visto che ormai le cose sono definite in questo modo perché pensavo di tenere uno per la letteratura moderna un altro per la lettura più dei classici insomma no ma a questo punto la letteratura moderna dovrà essere un po esclusa dai canali allora magari il punto di vista potrebbe essere quello di dedicare il secondo canale di spostare tutta la letteratura dei russi sul secondo canale quindi dedicare un canale intero la letteratura russa quando ancora sul progetto che se si riesce ad andare avanti se non ci sono ostacoli dal punto di vista dei russi cioè se non mi si pongono ostacoli per quello che riguarda la traduzione di dostoevsky mi piacerebbe portare a termine non lo so in quanti anni dipende dalla mia possibilità di sopravvivenza ma credo di aver oltrepassato la metà della della lettura dell'integrale di dostoevsky e quindi insomma magari utilizzando un canale per andare avanti con la letteratura russa i classici insomma sono sono soprattutto dell'ottocento e qualcosa del novecento ma ovviamente bisogna andare sui primi del novecento questo è quanto volevo dirvi insomma questo è quanto il successo spero che serva da spiegazione insomma per per le novità che troverete io sono anche convinto come mia filosofia personale è che che tutte le cose che succedono magari dispiacevoli spesso se non si guardano con troppa amarezza da queste cose può nascere qualcosa di buono cioè può nascere un cambiamento che magari è in meglio rispetto a una situazione rispetto a una situazione che magari si trascinava così per inerzia no a volte anche una una cosa che al momento sembra spiacevole poi può avere dei risvolti positivi o solo serve a far pensare le nuove opportunità ecco prendiamola così niente di drammatico è un avvertimento ripeto molto leggero molto anche di cui ringrazio e ringrazio pubblicamente l'avvocato per avermi fatto un avvertimento diciamo leggero comprensivo però è chiaro che insomma a una leggerezza di un avvertimento va risposto con una presa di coscienza e con per evitare tensioni insomma no va risposto adeguatamente insomma no perché è giusto perché io stesso so che non ho adempiuto a quei come dire a quelle regole formali che in questi casi ci sono e che probabilmente molti rispondono quindi insomma devo riconoscere una parte di torto e devo ringraziare dell'opportunità che mi si dà di rimediare togliendo a quello che magari togliendo quello che magari non non del tutto opportunamente ho postato sempre in buona fede cioè nel come dire nella consapevolezza o nell'intenzione di fare un servizio e da quello che voi avete dimostrato di raccogliere così è stato così mi è stato così mi è stato detto nei vostri commenti purtroppo non è possibile la realtà è di un certo modo la realtà che viviamo è quella capitalistica insomma per cui il bene culturale diventa uno strumento anche questo di economico insomma no per i più forti fanno le regole queste regole però come dire nel mondo le regole per poter vivere civilmente le regole vanno bene o male rispettate insomma si si trasgrediscono bisogna cercare di rimediare soprattutto se ti si dà la possibilità di rimediare senza incorrere in in ulteriori sanzioni e quindi questo è quello che io ho intenzione di fare continuate a iscrivervi al canale perché insomma cerchiamo una volta sistemata definitivamente questa cosa cioè una volta completata la pulizia anche di quello che potrei aver omesso per ora poi insomma si va si va avanti io intanto proseguo con l'idiota insomma sperando che la cosa non venga accettata di dostoevsky l'altra cosa che stavo per che stavo postando insomma che tutto sommato mi piaceva anche poter terminare di leggere cioè il signore delle mosche di golding non lo so se terminerò di leggere lo terminerò per conto mio ma non lo potrò postare un abbraccio a tutti e buona giornata